C'è un solo Kregel che riconosci tra mille, è Premium Saiba, così buono perché ha 23 ore di lievitazione naturale, così buono perché protetto dal pacco corazzato per darti sempre il massimo della fracanza e oggi Premium Saiba ti offre 10 porzioni nel nuovo pacco corazzato da mezzo chilo. Mezzo chilo for Nation!